Mantenere il cuore in salute dipende soprattutto da te. Certo, mettere in pratica tutto ciò può non essere facile e richiede volontà e determinazione, ma solo così puoi ridurre drasticamente l'incidenza delle malattie cardiovascolari. Lo sai che per garantire la tua salute dovresti camminare a passo veloce almeno 30 minuti al giorno. Non serve strafare, inutile fare sforzi troppo intensi, soprattutto è importante essere costanti e regolari. Lo sai che il tabacco rappresenta uno dei principali rischi per la salute del tuo cuore? Se il tuo cuore potesse parlare, ti chiederebbe di smettere di fumare. Ricordati che per una buona salute del cuore è bene alimentarsi in modo equilibrato. è bene mangiare proporzionalmente al proprio dispendio energetico e poi trova il tempo per mangiare per farlo con calma. Mangiare in fretta non aiuta la digestione né il senso di sazietà. procedi per piccoli passi. Prova a scegliere i cambiamenti che consideri più fattibili e sostenibili nel tempo. Falli entrare poco per volta nelle tue abitudini quotidiane. sperimenta il piacere e i vantaggi che ne derivano. Avere fiducia nelle proprie capacità di mettere in atto piccole ma importanti azioni per modificare alcune abitudini di vita è indispensabile per la salute del proprio cuore.